Drammatico e l'epidemia Il bilancio dell'ultima traversata della Speranza con l'approdo l'altra notte a Pozzallo per 450 migranti. Quattro giovani somali sono morti annegati sotto gli occhi dei loro compagni dopo essersi tuffati all'arrivo delle navi di soccorso. Arrestati dalla polizia 11 presunti scafisti. Anche a Comiso come a Ragusa maggioranza piglia tutto in consiglio comunale e la lista civica Comiso vera fa il pieno destinando alla presidenza Salvatore Romano che ottiene un voto in più della coalizione e alla carica di vice Valentina Damiata. Nel nuovo consesso 16 eletti su 24 sono nuovi. 26 anni dopo la strage di Via D'Amelio che uccise il giudice Polo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuele Alloi, Vincenzo Limuli, Walter Cosina e Claudio Traina tanti momenti non solo per ricordare ma per chiedere tutta la verità e giustizia dopo i depistaggi di Stato. La nave bizantina affiorata nelle acque di Portolissa a breve distanza dalla costa di Ispica presto potrà essere ammirata. Subito dopo il recupero sarà infatti collocato in un edificio nel Parco Forza e qui in un museo aperto sarà esposta ai visitatori che potranno osservare i lavori di restauro. A Ragusa il neoassessore comunale e servizi sociali Luigi Rabito annuncia una rivoluzione nel sistema di welfare. Azzereremo l'attuale situazione dei sussidi e cambieremo tutto. E sulla coesistenza dell'incarico riguardante anche la sanità con la condizione di dipendente dell'ASPA sicura. Nessuna incompatibilità. Buongiorno e bentrovati con l'informazione della Prima TV. La polizia di Ragusa ha tratto in arresto 11 persone ritenute essere gli scafisti responsabili dell'ultima traversata culminata con l'approdo di 450 migranti a Pozzallo dopo un'attesa di 48 ore davanti le coste Iblee. Drammatico il racconto dei migranti. Quattro somali sono morti davanti agli occhi dei loro compagni. Sentiamo. Arrestati 11 soggetti individuati come gli scafisti dell'ultima traversata culminata con l'approdo a Pozzallo di 447 migranti giunti a bordo della Protector Assetto Frontex e Monte Sperone. Di questi uno era già stato arrestato nel 2004 ad Agrigento, sempre per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Drammatico il racconto dei migranti che hanno collaborato con le forze dell'ordine per l'individuazione dei membri dell'equipaggio che hanno condotto l'imbarcazione in legno partita dalle coste libiche. Dalle testimonianze gli inquirenti hanno appreso che i migranti eritrei, circa 300, hanno pagato in media 10.000 euro, mentre i somali 6.000. Dall'escussione di alcuni migranti somali è emerso che durante la traversata un gruppo di circa 30 somali, non appena notato un'unità navale italiana nei pressi di Linosa, ha deciso di buttarsi in acqua per raggiungerla a nuoto. I migranti sono stati soccorsi in 34 da due motovedette della Capitaneria di Porto ed una della Guardia di Finanza. Tre parenti di origine somale hanno riferito che quattro migranti non sono riusciti a raggiungere l'imbarcazione di soccorso e per questo si sono perse le loro tracce. Dopo aver acquisito validi indizi di prova, gli inquirenti su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, rappresentata dal sostituto Santo Fornasier, hanno tratto in arresto i componenti dell'equipaggio che si trovano adesso rinchiusi presso il carcere di Ragusa. Con gli ultimi arresti sale a 31 il numero degli scafisti fermati nel 2018 contro i 112 del 2017 e i 200 del 2016. E adesso la pagina di politica. Primo giorno di scuola per gli eletti al Consiglio Comunale di Comiso. Tante riconferme e tanti volti nuovi hanno animato ieri sera il Comune Casmeneo. La seduta, convocata dall'uscente Bellassai, è stata presieduta dal consigliere più votato, Ghetano Gaglio, eletto presidente Salvatore Romano. Ieri è suonata la campanella per i consiglieri eletti al Consiglio Comunale di Comiso. Tra vecchi e nuovi, la civica Sise si è animata nella sua prima seduta, convocata dall'uscente Bellassai. A presiedere, il consigliere che ha preso più voti, l'ex vice sindaco Ghetano Gaglio. Il ringraziamento è alla città che in un clima, devo dire, tutto sommato sereno, ha portato all'apertura di questa nuova stagione politica. Ogni consigliatura apre un discorso quinquennale per la propria città, naturalmente senza soluzione di continuità amministrativa, come è giusto che sia in un ente istituzionale, ma naturalmente con nuove aspettative, nuove attese e nuovo slancio per una compagina amministrativa che tra l'altro è qui presente in tutto il suo completo, dal sindaco a tutti gli assessori e designati, che naturalmente porterà avanti il programma che ha illustrato i cittadini nel corso della campagna elettorale. Ma il ringraziamento va a tutti quei cittadini che con il loro impegno civico hanno partecipato alla scelta del governo della propria città. Assistiamo in questi anni a un complessivo depotenziamento della figura dell'amministratore politico a tutti i suoi diventi. Quasi che fare oggi politica sia una colpa o sia un'attività di cui non andare pieno. Naturalmente non è così. Se si è esagerato il passato con dei comportamenti da riprimere e da riprendere, ovviamente non lo si è fatto in tutti coloro che quotidianamente partecipano e si scommettono con generosità per il bene comune, per il bene delle proprie città, delle proprie province, delle proprie regioni e della propria nazione. Presente in aula il sindaco Maria Rita Schemmeri. Dopo i controlli delle incompatibilità sono iniziate le operazioni di voto per eleggere il nuovo presidente del Consiglio Comunale. E con i voti della maggioranza più uno dell'opposizione viene eletto Salvatore Romano, esponente della lista Comiso Vera. Il sindaco uscente Filippo Spataro aveva chiesto di concedere all'opposizione il presidente del Consiglio Comunale visto che, a suo dire, la città è divisa in due e che la vittoria della candidata del centro-destra è avvenuta grazie a 60 voti in più. Ma non è stato così e la maggioranza ha proseguito la sua corsa spedita eleggendo Romano e come vicepresidente Valentina Damiata. Non mi sembra difficile comprendere con quali emozioni in questo momento prendo la parola. ora avete chiamato a ricoprire una così alta carica istituzionale, qual è quella del presidente del Consiglio Comunale. Un rinvento che certamente mi gratifica e che assumo con grande senso di responsabilità e spirito di servizio. Voglio aspettare a ragionare, almeno all'inizio, qualche felicitazione nella condizione di questa Assemblea Comunale. E con tutti i voti della maggioranza, più uno proveniente dall'opposizione, Salvatore Romano, appunto, diventa il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Comiso. Prende il posto dell'uscente Bellassai. Alla vicepresidenza Valentina Damiata, Romano, esponente di Comiso Vera, ai nostri microfoni, spiega gli obiettivi dei prossimi cinque anni in Consiglio. Sentiamo. Salvatore Romano, eletto presidente del Consiglio Comunale di Comiso. Ieri è arrivata la sua elezione in Consiglio, se l'aspettava? Me l'aspettavo, sì, perché c'è stato un accordo di maggioranza e per questo ringrazio il sindaco e tutti i miei colleghi di coalizione. Quindi è un incarico che mi aspettavo e ho ottenuto con addirittura una preferenza in più rispetto ai numeri che dovevo ottenere. Lei nel suo discorso iniziale ieri come presidente del Consiglio ha posto degli obiettivi. Quali sono? Il mio obiettivo è quello, intanto, di garantire i diritti e i doveri di tutti i consiglieri comunali, quindi che devono esplodare al meglio le loro funzioni e le prorogative che il regolamento per il Consiglio Comunale gli affida. Il mio obiettivo è quello di portare in Consiglio Comunale un dialogo costruttivo e collaborativo tra maggioranza e opposizione per una crescita politica, sociale e culturale del Consiglio Comunale. Lavorerò per il prestigio del Consiglio Comunale e tutti insieme dobbiamo lavorare nell'interesse dei cittadini perché i cittadini si aspettano tanto da noi, sia dalla maggioranza a cui aspetta governare, sia dell'opposizione, cercando di fare un'opposizione costruttiva. Ci spostiamo adesso a Ragusa. Per le minoranze nel Consiglio Comunale, lì nel capologo Ibleo, l'elezione di Fabrizio Ilardo rappresenta un'occasione mancata. Le opposizioni avrebbero voluto esprimere la carica più alta in assise, ma per la maggioranza tutto ciò è fuori da ogni logica. Vediamo. Con l'elezione di Fabrizio Ilardo a presidente del Consiglio Comunale e di Maria Malfa, vicepresidente, la maggioranza che in assise sostiene il sindaco Peppe Cassì ha preso le due cariche più alte del consesso, non lasciando niente alle minoranze. Un duro colpo per l'opposizione che addirittura avrebbe sperato di poter ottenere lo scranno più alto di Palazzo dell'Aquila. Avrebbe stato giusto e doveroso dare la presidenza del Consiglio Comunale oggi alle opposizioni. È un ruolo che dovrebbe essere dato proprio alle opposizioni perché lì sì che si è super partes. L'amministrazione non ha voluto cogliere il nostro invito. Oggi il presidente è Fabrizio Ilardo. Io faccio i miei migliori auguri. Spero che tutto quello che lui ha detto nel suo discorso iniziale lo possa mettere in atto perché saremo sicuramente attenti anche al suo lavoro perché questo è quello che noi faremo. Un'opposizione attenta, un'opposizione corretta, un'opposizione positiva e propositiva. Ci aspettavamo sì un'apertura, un cambiamento, una nuova fase amministrativa che era appunto aprire alle opposizioni la presenza del Consiglio. Mi dispiace perché si è persa comunque un'opportunità. Ma noi auguriamo al nuovo presidente di svolgere nel miglior modo possibile questo ruolo, di essere appunto super partes e di lavorare in sinergia in questa nuova fase amministrativa. Prima di incardinare il sesto punto all'ordine del giorno, cioè quello dell'elezione del presidente del Consiglio Comunale, Cassì ha tentato una interlocuzione con le minoranze per capire se si potesse trovare un accordo sul nome condiviso per il vicepresidente. Ma la trattativa è subito saltata. Comincerà oggi la tre giorni di appuntamenti in memoria dei caduti nella strage di Via D'Amelio a Palermo. A 26 anni dalla morte del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, il tema centrale sarà quello della verità, ancora non svelata, dei fatti che la Tribunale di Caltanissetta ha recentemente ribattezzato come uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziale italiana. Da Palermo il nostro corrispondente Lorenzo Anfuso. Un giorno dedicato alla memoria, ma quest'anno anche all'esigenza di verità urlata a squarciagola dopo la sentenza di alcune settimane fa da parte del Tribunale di Caltanissetta. Sarà un 19 luglio fitto di appuntamenti, quello che animerà il giorno del 26esimo anniversario della strage di Via D'Amelio che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e agenti Agostino Catalano, Emanuele Aloi, Vincenzo Limuli, Walter, Eddie, Cosina e Claudio Traina. Una a tre giorni che inizierà ufficialmente questo pomeriggio con il terzo compleanno della Casa di Paolo, l'abitazione museo istituita in memoria del giudice antimafia e con la quarta edizione del triangolare di calcetto la legalità scende in campo. Questa sera alla Facoltà di Giurisprudenza si terrà un convegno promosso da Antimafia 2000 dal titolo Paolo Borsellino, pezzi mancanti di una strage annunciata. Domani dalle 19 l'acchianata in notturno al Monte Pellegrino con partenza da Via D'Amelio dove alle 23 si terrà una veglia. Giornata clou quella di giovedì 19 luglio che inizierà alle 9 di mattina con la piantumazione di alberi in memoria di Agende Rosse al Parco Auditore. Dalle 15 sarà quindi allestito un palco in Via D'Amelio nel quale si parlerà di nuove generazioni e del concetto di libertà dall'illegalità. Un dibattito nel quale anche i sopravvissuti e i familiari delle vittime di mafia porteranno le loro testimonianze. Alle 16.58 il solenne minuto di silenzio, in seguito studenti di scuole primarie e secondarie presenteranno i loro lavori sul tema della giornata. Alle 18 la presentazione del libro La Repubblica delle stragi con interventi di Salvatore Borsellino, Roberto Scarpinato, Giovanni Spinosa, Fabio Repici e Giuseppe Lobianco. Chiusura con la partenza della 22esima fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino che quest'anno avrà come tema trainante depistaggi e tradimenti 26 anni senza verità. Prevista un'ampia partecipazione da tutta la Sicilia con oltre 50 tra associazioni e movimenti che hanno aderito insieme a numerosi comuni siciliani. Il 28 giugno scorso è stata presentata l'eccezionale scoperta di una nave bizantina nei fondali di Portulisse, a breve distanza dal litorale di Ispica. Ora viene annunciato che a breve il relitto potrà essere esposto al pubblico in un edificio all'interno del Parco Forza e i lavori di restauro potranno essere ammirati dai visitatori durante il loro svolgimento. In proposito sentiamo l'assessore regionale ai beni culturali Sebastiano Tuso intervistato da Carmelo Ricotti Larocca. L'operazione è possibile perché c'è anche la disponibilità del Comune di Ispica, del sindaco e quindi siccome è nostra intenzione lasciare i reperti il più possibile vicino ai luoghi di rinvenimento quale migliore occasione che ci è stata offerta dal Comune di Ispica in collaborazione con la soprintendenza di Ragusa per la realizzazione di un museo in questo edificio nei pressi del Parco Forza. La nostra intenzione è quella di realizzare già da subito, da quando inizieranno i lavori di conservazione e restauro una sorta di museo aperto, quindi far vedere in ambito di un work in progress già ai turisti, ai visitatori, quello che si fa e spiegare di che cosa si tratta. Questo per evitare quello che succedeva in passato, cioè che l'ostensione dei reperti avveniva dopo molti anni quando finiva tutto l'interre di restauro. Cercheremo di farlo subito, quindi a partire già dal 2019 quando inizieremo le operazioni di recupero cercheremo già di dare contezza al pubblico con questo sistema di trasparenza anche nelle operazioni di restauro. Torniamo adesso alla comune di Ragusa dove l'assessore ai servizi sociali, politiche per la famiglia, personale e sanità Luigi Rabito annuncia una rivoluzione nel sistema di welfare. Azzereremo presto la situazione attuale dei sussidi, afferma e nel campo della sanità rassicura il mio status di dipendente dell'ASP non condizionerà l'esercizio della mia funzione di assessore. Sentiamolo sempre al microfono di Carmelo Ricotti Larocca. Io con l'assessorato ai servizi sociali intendo intanto resettare tutto e cominciare un nuovo percorso. Ho già fatto un incontro con tutti i dipendenti comunali che lavorano all'assessorato per proprio iniziare di nuovo a percorrere una strada diversa. Un giorno alla settimana farò un colloquio con i cittadini in maniera tale da avere un costante contatto con tutti. Intanto il neoassessore ai servizi sociali, politica per la famiglia, sanità e personale si trova ad esercitare le funzioni proprie dell'amministrazione comunale essendo anche un dipendente dell'azienda sanitaria provinciale. Sottoposto come tale al vincolo di subordinazione rispetto alla dirigenza aziendale è però chiamato come assessore a servire gli interessi della sanità nel territorio comunale. Anche se dovesse capitare in contrapposizione a quella dirigenza verso la quale invece in quanto dipendente non dispone di autonomia neanche di mera critica considerati i doveri di fedeltà e lealtà sanzionabili anche attraverso l'esercizio di poteri disciplinari. È questo un problema? La normativa non prevede nessuna incompatibilità fra il mio ruolo all'ASPE e la nomina di assessore quindi decade tutto. Ancora cani trovati uccisi nella nostra città ancora un triste fenomeno che non può passare come se niente fosse è necessario prendere provvedimenti chiedo al sindaco, all'assessore comunale competente di valutare azioni di sensibilizzazione fermo restando, quanto contemplato dalle normative vigenti in termini di sanzioni nei confronti di chi si rende protagonista di questi gesti deprecabili che possano far interrogare la comunità vittoriese sulle ragioni che hanno portato alla recrudescenza di questi fenomeni. A dirlo è il capo gruppo di Riavia Vittoria Giuseppe Scuderi dopo aver ricevuto l'ennesima segnalazione su alcuni cani randaggi che sarebbero stati avvelenati ma saranno i successivi accertamenti a confermarlo trovati senza vita in zona Gurrieri. Come rappresentante delle istituzioni non posso fare altro che denunciare il fatto e invocare la massima attenzione da parte delle forze dell'ordine con l'ospicio che arrivino risposte opportune e che episodi del genere non si verifichino più. La situazione degli IPAB siciliani istituzioni pubbliche per l'assistenza e la beneficenza in Sicilia è grave e rischiano di soffocare nei debiti. Istituiti nel 1980 nacquero come enti di diritto pubblico. Nel tempo si sarebbero dovuti riformare ma è ancora tutto come allora ma facciamo il punto in questo servizio. Una crisi irreversibile nel tempo che ha spinto verso il baratro gli IPAB siciliani fin dalla fine della legislatura all'Ars 2008-2012 quando a Palazzo d'Orleans sedeva ancora Raffaele Lombardo. Un esordio lento, menesorabile che ha attraversato in pratica l'ultimo quinquennio. L'era crocetta e attende dall'esecutivo guidato da Musumeci una soluzione che impatti in concreto con le difficoltà economiche e di gestione e con quelle finanziarie degli enti. Era il 18 marzo del 2015 quando la regione per bocca dell'assessore di crocetta Bruno Caruso annunciava in finanziare l'inserimento di una norma ponte per gli IPAB siciliani una soluzione di transizione per accorciare le distanze con le difficoltà economiche che già da un anno non avevano ricevuto i contributi da parte della regione. Non se ne fece nulla e inoltre per un altro anno da quella data le somme da parte della regione furono azzerate. La riforma mancata invece condotta e non conclusa da Gianluca Miciche assessore centrista della giunta politica di crocetta nella seconda parte della legislatura prevedeva la trasformazione in azienda degli enti distinguendo tra quelli in possesso di specifici requisiti e gli atti che avrebbero dovuto adottare piani triennali di adeguamento. Era inoltre stabilito un piano di ripianamento dei debiti con piani cinquennali di rientro finanziati con un fondo la cui ripartizione sarebbe stata determinata dall'assessorato. Un comma a parte riservato a nuovi servizi con un'attenzione mirata all'accoglienza dei migranti minorenni non accompagnati servizio per il quale il ministero aveva stanziato all'epoca 52 milioni di euro. Anche in quel caso il naufragio fu totale. La legge istitutiva degli IPAB affonda le radici addirittura nel 1980. Si tratta di enti di diritto pubblico molti dei quali costituiti con patrimonio privati o da enti di ispirazione religiosa con risorse fornite da enti ecclesiastici. Nel resto d'Italia si chiamano fondazioni o aziende di servizio alla persona e sono in alcuni casi enti pubblici non economici dotati di personalità giuridica di autonomia statutaria gestionale e patrimoniale senza fini di lucro. In Sicilia la riforma ancora non c'è. La legge regionale 71 dell'82 prevede l'erogazione di contributi agli IPAB per le spese del personale a condizioni che ci siano da parte degli enti i rendiconti approvati. Nel 2016 sono stati liquidati appena 500.000 euro l'istruttore invece in itinere per quanto riguarda il 2017. In Sicilia in questi enti lavorano 750 dipendenti di ruolo lavoratori pubblici con contratto di lavoro degli enti locali e 1200 persone tra contratti a tempo determinato e professionisti in convenzione. I debiti del settore superano i 40 milioni di euro. Per il triennio 2016-2018 il fondo di funzionamento prevede una dotazione di 5 milioni ma ad ogni finanziaria ritocchi e rimodulazioni hanno aggiornato il capitolo dalle assegnazioni. In passato inoltre la regione aveva provveduto ad equiparare in riferimento all'attrattamento economico i dipendenti degli enti al personale degli enti locali e dei comuni con contratti decisamente pionerosi delle cooperative che quantificavano una spesa generale del 40% in meno. In tal senso sempre più IPAB pensano di dover esternalizzare il servizio del personale. Oggi in Sicilia ci sono 134 IPAB suddivise in 87 comuni per un totale di 2.649 posti letto. Anche la Sicilia avrà una legge sul diritto allo studio. Il governo musumece ha infatti approvato il DDL proposto dall'assessore all'istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla. Il disegno di legge auspicato anche dall'Assemblea regionale e dalla competente commissione legislativa provvede a colmare uno storico vuoto esistente nell'ordinamento legislativo regionale. Sentiamo. Finalmente anche la Sicilia avrà una legge sul diritto allo studio. Il governo musumece ha infatti approvato il DDL proposto dall'assessore all'istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla. è stato affermi uno dei principali obiettivi del mio governo sin dall'insediamento finalmente dopo mesi di lavoro con l'ufficio scolastico regionale con i rappresentanti delle parti sociali del corpo docente e delle consulte studentesche siamo arrivati alla proposta di legge definitiva attesa da oltre 30 anni. Adesso spero che l'iteral legislativo possa procedere eccellermente all'Ars in modo che anche la Sicilia possa essere al passo con la quasi di totalità delle altre regioni italiane. Il disegno di legge auspicato anche dall'Assemblea regionale e dalla competente commissione legislativa provvede a colmare uno storico vuoto esistente nell'ordinamento legislativo regionale già nel 1985 infatti con decreto della Presidente della Repubblica si delegava la regione in materia di istruzione nonostante questo la Sicilia è rimasta ancora oggi una delle poche regioni italiane a non aver approvato una legge organica sul diritto allo studio determinando così forti squilibri nell'accesso ai servizi e nelle modalità di erogazione degli stessi la proposta avanzata dal governo mira a disciplinare e a garantire l'accesso agli studi a tutti i giovani siciliani fin dalla scuola dell'infanzia occupandosi per la prima volta dei discenti più piccoli dai 0 ai 6 anni per arrivare alla formazione degli adulti finalizzata all'inserimento occupazionale questa legge aggiunge l'assessorella Galla si propone di disciplinare finalmente in una logica di continuità il percorso formativo di ogni singolo studente attivando strumenti che facilitino il raccordo con l'istruzione superiore e con l'accesso al mondo del lavoro è più che mai necessario salvaguardare i diritti degli studenti per garantire loro un percorso formativo qualitativamente adeguato e universalmente accessibile contrastando così i dati preoccupanti e penalizzanti sulla dispersione scolastica e sul livello delle competenze dei nostri ragazzi in questo modo intendiamo recuperare opportunità perdute e ripristinarle il ruolo centrale della conoscenza per lo sviluppo della nostra società partire dei giovani significa anche supportare utilmente la crescita imprenditoriale ed economica del territorio ponendo il tema dell'istruzione alla base del possibile superamento delle attuali disuguaglianze derivanti da differenti condizioni di partenza di natura economica o sociale il testo si compone di 36 articoli che disciplinano le azioni a sostegno dei vari percorsi di studio fino a livello universitario attraverso l'impiego di risorse regionali ed extra regionali il disegno di legge prevede l'istituzione della consulta regionale per il diritto allo studio come luogo di concertazione e collaborazione tra i diversi attori del sistema inoltre sono previsti interventi per il contrasto della dispersione scolastica ancora drammaticamente presente in Sicilia come la costituzione dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti per il monitoraggio del fenomeno nonché azione a sostegno del prolungamento del tempo scolastico e in materia di funzionalità e sicurezza degli edifici scolastici per persone diversamente abili o con disturbi specifici d'apprendimento in particolare sono previsti accordi e protocolli d'intesa con soggetti del terzo settore e con associazioni di familiari finalizzate a una programmazione dei servizi scolastici fra le azioni a sostegno del sistema universitario è prevista l'erogazione di borse di studio di contributi a favore di studenti meritevoli in condizioni di disagio e iniziative finalizzate a favorire il rientro di studiosi siciliani e in chiusura vi ricordiamo il quotidiano appuntamento con il fatto del giorno in onda alle 20.30 sulla nostra emittente questa sera sarà ospite Gianni Scapellato avvocato esperto di gestione aeroportuale il quale ebbe un ruolo determinante nella realizzazione dell'aeroporto di Comiso ed oggi cercherà con noi di analizzare le cause della gravissima crisi che potrebbe provocare la chiusura appuntamento quindi questa sera con il fatto del giorno alle ore 20.30 sulla prima tv e con questo annuncio il nostro telegiornale termina qui vi ringrazio per la cortesia attenzione e vi auguro una buona giornata arrivederci e vi auguro vi auguro vi auguro Grazie a tutti